Giornata molto interessante oggi qui a Porto Novo su questo tema complesso della sicurezza del nostro patrimonio infrastrutturale. Mi limito a parlare degli aspetti di interazione terreno-strutture e di conseguenza degli aspetti geotecnici qualche commento. Il vero problema quando si parla di problemi che hanno a che fare con il terreno è innanzitutto la conoscenza del terreno stesso, quindi la necessità di fare indagini e caratterizzarne la risposta. A questo si aggiunge molto spesso la difficoltà di conoscere qual è il reale stato geometrico delle opere di fondazione o delle gallerie e qual è lo stato dei materiali che queste fondazioni o queste gallerie compongono. Tutto questo apre una importantissima tematica che dovrà essere affrontata assolutamente nei prossimi anni attraverso questa intensa attività, se volete di ricerca ma applicata, ma è come in questo caso, per poter dare delle risposte concrete al nostro paese che ha una fitta rete stradale, infrastrutturale, anche ferroviaria e che attraversa un territorio interessato da molteplici frane di varia natura e tipo. Abbiamo cercato di parlare di alcune esperienze che hanno contribuito a cambiare anche il quadro normativo in Italia e che sono convinto anche questa esperienza rafforzerà una serie di aspetti della nostra normativa, specificandola meglio e rendendola sicuramente una normativa all'avanguardia. Ovviamente sarà necessario un grosso investimento, un grosso sforzo, perché le opere sono tante, i problemi sono tante, purtroppo non si parte da una base di conoscenza sufficientemente diffusa su tutti gli aspetti del problema e pertanto sarà assolutamente necessario raccogliere informazioni, analizzarle in maniera critica ed elaborarle in maniera intelligente perché queste possano essere realmente fruite da chi poi queste reti dovrà gestire.